Oggi lo sport riparte e riparte in sicurezza. La provincia di Belluno sostiene l'Ulse e ringrazia tutti gli operatori uomini e donne che in questi lunghi mesi ci hanno aiutato a combattere questa pandemia. A loro va il nostro grazie, la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza. Ora dobbiamo fare anche noi la nostra parte, lo dobbiamo per noi stessi ma anche per gli altri e allora vacciniamoci. L'Ulse Dolomiti ha lavorato con molto impegno da dicembre fino a questi mesi, ora è il momento dei giovani, per loro abbiamo dedicato ampi spazi prenotabili e l'accesso libero in tutti i nostri drive-in vaccinali. È un impegno di tutela personale e di grande aiuto alla comunità. Soprattutto in questo momento dove intravediamo una ripartenza è giusto continuare a lottare, combattere per poter tornare ad avere una vita normale. Abbiamo lo strumento per poter uscirne, quindi vacciniamoci, facciamolo per noi, facciamolo per le persone che non possono vaccinarsi, perché magari hanno delle patologie e quindi mi raccomando. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.